Amici telespettatori, eccoci con una puntata insolita, diversa di Polifemo. Infatti, oggi Polifemo si occupa di medicina, si occupa di un importantissimo convegno che vede protagonista la Puglia e la Basilicata. Infatti, ci occuperemo dell'incontro scientifico argomenti di neuroscienze organizzato dalla Società di Neuroscienze Ospedaliere Appulo Lucana, un incontro che si è tenuto presso la sala convegni della Cittadella della Carità a Taranto. Dunque, parliamo di neuroscienze, parliamo di neurologia, parliamo di neurochirurgia. È un convegno molto ma molto, strutturato molto ma molto bene in maniera davvero capillare. Infatti, c'è tutta una serie di relazioni relativamente appunto a questi argomenti e anche la trattazione di vari casi clinici. Ripeto, Polifemo ha deciso per un venerdì di evadere, di uscire dal suo alveo naturale, ma lo dovevamo fare perché un'opportunità del genere, un momento di crescita, vuoi per gli aspetti della medicina ionica, vuoi per i contenuti trattati di livello nazionale, beh, era opportuno che Polifemo assumesse un'altra veste. E la trasmissione sarà così strutturata subito dopo le relazioni dei vari soggetti intervenuti, noi li avvicineremo proprio, avvicineremo loro alla nostra telecamera proprio per farci un sunto di quelle problematiche affrontate. Partiamo dunque con questa interessantissima serie di interviste. E diamo in là, apriamo questa raccolta di interventi del convegno di oggi con il direttore generale della ASL di Taranto, l'Avvocato Stefano Rossi. Beh, lei nel suo intervento ha fatto riferimento ad una filiera di eccellenza costituita appunto dalla neurologia, dalla neurochirurgia e dalla neuroradiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Una serie di interventi, quelli posti in essere da questi reparti, che appunto sottolineano, che evidenziano la qualità del servizio e che sono in grado di contrastare questa esterofilia distorta, questi viaggi della speranza che grazie al cielo non hanno più ragion d'essere. Assolutamente. Questa è un'eccellenza che io qui ho ritrovato a Taranto e di cui mi compiaccio per la collettività. Veramente, il dottore internò come responsabile della neurologia, che tra l'altro vede attivato al suo interno una Stroke Unite che è veramente in grado di approcciare le tematiche più gravi di questo tipo di patologie. Oltre che la neuroradiologia e la neurochirurgia, noi cominciamo ad essere attrattivi, cioè noi cominciamo ad avere mobilità attiva, pazienti che vengono qui a Taranto proprio per riuscire ad avere questo tipo di prestazione. Quasi c'è un incoming. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questi incontri oggi servono a pubblicizzarle meglio e di questo anche ringrazio voi. E l'importanza anche di correlarsi con altre realtà italiane del Sud e penso all'incontro di oggi nell'ambito della società di neuroscienze ospedaliere Appulo Lucane, quindi un'apertura con altre realtà. Siamo pochi, dobbiamo fare sempre massa critica. Il confronto con gli altri è sempre un'occasione virtuosa di crescita. Mimmonume, Presidente dell'Ordine dei Medici di Taranto. Da un lato valorizzare e potenziare le nostre eccellenze e in questa ottica, in questa direzione, tutte le neuroscienze, diciamo, tarantine. Dall'alto però la difficoltà con i vari tagli che si ricevono dall'alto, che il Governo sta ponendo anche in essere. Quindi si tratta di contemperare queste due esigenze, l'esigenza del bilancio ma anche l'esigenza di un servizio che deve andare necessariamente nella direzione dell'interesse del paziente. Sì, è un'esigenza che per la verità è presente anche nel codice deontologico dei medici già da più di dieci anni. L'esigenza di contemperare la professionalità, l'offerta professionale con le risorse messe a disposizione in favore di tutta la cittadinanza. Perché non dimentichiamo che noi viviamo in un Paese in cui c'è, viva Dio, un servizio sanitario pubblico che consente al più ricco, almeno dovrebbe consentire in teoria al più ricco e al più povero di curarsi negli stessi posti, con gli stessi professionisti e con la stessa qualità professionale. Proprio in questi giorni parte una serie di iniziative contro alcuni tagli decisi dal Governo perché noi siamo d'accordo, sì, sulla proprietà, ma su una proprietà che sia giocata sulle reali conoscenze professionali che sono quelle che si conquistano sul campo con il confronto con il paziente, con le sue esigenze personali, con le sue esigenze di salute, non soltanto di salute fisica ma di salute complessivamente intesa anche come benessere psicosociale. Quindi siamo d'accordo con la razionalizzazione delle risorse a disposizione ma che sia una razionalizzazione giocata sulle competenze professionali, non sulle idee di chi non ha mai visto un paziente in vita sua e pretende di dettare legge a chi invece ogni giorno fa il medico rimboccandosi le maniche e venendo incontro alle esigenze dei cittadini. Si ha quasi l'idea proprio del medico in trincea perché i reparti ospedalieri sovraffollati che devono veramente fare i salti mortali configurano quasi una situazione da trincea per così dire. Sì, purtroppo soprattutto in alcune realtà, nella realtà meridionale dove storicamente c'è un sottodimensionamento delle strutture e in alcune realtà, penso ad esempio ai colleghi che operano eroicamente nei pronto soccorso degli ospedali di tutta Italia, ma in particolare dell'Italia meridionale, dove si combatte quotidianamente contro una richiesta spesso e vero inappropriata di prestazioni. Ma perché? Perché c'è un'incapacità di costruire una risposta territoriale, di costruire e finanziare, perché questo è importante, è una risposta territoriale adeguata e c'è soprattutto una necessità di ripensare le leggi sulla responsabilità professionale perché fino a quando si sarà costretti a una medicina fra virgolette difensiva, questa non farà né l'interesse dei pazienti in termini di sicurezza né in termini di sicurezza l'interesse dei professionisti. Per cui credo che i prossimi giorni, questa mobilitazione dei prossimi giorni in tutta la categoria medica sarà molto importante per dare una svolta di concretezza e di futuro al nostro servizio sanitario. Con il dottor Giuseppe Russo, direttore sanitario della struttura della Cittadella della Carità parliamo innanzitutto della interazione che ci può e ci deve essere tra il pubblico ed il privato in ambito sanitario e quindi in quest'ottica la Cittadella della Carità che ospita il convegno odierno. Ribadendo il concetto che noi siamo onorati di ospitare questa riunione scientifica di così alto livello che rappresenta il meglio che la neurologia, neurochirurgia e neurochirurgia la Puglia e il territorio nazionale per alcuni relatori può dare, il concetto di interazione e collaborazione tra pubblico e privato accreditato è un concetto vecchio che risale alla 502 ma negli ultimi tempi questa collaborazione che è fondamentale per il benessere della salute del cittadino con integrazioni dove il privato accreditato può e deve dare prestazioni di qualità a compensazione del servizio sanitario pubblico sempre per attrarre in maniera maggiore e evitare l'emigrazione sanitaria. Il nuovo management di questa struttura in quest'ottica sta cercando di rilanciare la Cittadella della Carità anche con una collaborazione a livello di formazione che è un'attività antica della Cittadella che ha formato quasi tutti i geriatri del territorio, prima con l'Università Cattolica, poi con il San Raffaele e attualmente si sta cercando un discorso di collaborazione invece strettamente con il territorio, con l'Università di Bari, quindi cercare di organizzare la gestione dei corsi professionali per infermieri professionali e terapisti della riabilitazione e possibilmente incrementare ulteriormente in modo da poter non solo dare un'offerta sanitaria ma anche un'offerta di formazione universitaria che può solamente valorizzare il territorio. Speriamo di vincere questa sfida, noi ce la metteremo tutta, sappiamo di avere un ottimo interlocutore nella ASL Taranto con un ottimo management che guarda molto al di là del presente per costruire il futuro e speriamo per il bene di tutti che si realizzi. Siamo con il dottor Saverio Internò, primario del reparto di Neurologia del Santissima Annunziata di Taranto, nonché presidente di questo convegno. E allora dottor Internò, come è strutturato? Mi parla di capire che ci sono degli interventi quasi per così dire accademici e poi proprio l'analisi di alcuni casi clinici. Sì, sì, sono contento che per la prima volta questo evento della società Apolo Lucana di Neurologia si realizzi qui a Taranto, nella nostra città. Il convegno prevede, come diceva lei, sessioni dedicate a presentazioni frontali, cioè a classiche presentazioni teoriche da parte di illustri legatori che sono sia della nostra provincia ma anche provengono da altre città italiane e che ringrazio per la loro partecipazione. Accanto a queste relazioni ci sono delle altre caratterizzate dalla presentazione di casi clinici, cioè di pratici casi derivati dall'esperienza clinica quotidiana di ciascuno dei gruppi presenti e proposti da rappresentanti di questi gruppi, affinché da questo insieme di informazioni, alcune prettamente cliniche teoriche, altre derivanti dalla pratica clinica, si possa ottenere sia un arricchimento culturale per ciascuno ma anche delle ricadute circa l'attività pratica quotidiana a favore dei pazienti che si affidano alle nostre cure. La craniotomia decompressiva nell'edema cerebrale maligno da ictus ischemico è questo l'argomento che è stato affrontato dal dottor Corrado Iaccarino che è neurochirurgo della azienda ospedaliera universitaria di Parma. E allora vediamo un po' analizziamo proprio le percentuali dei risultati positivi di questo intervento di craniotomia con relazionato alle varie fasce di età. Sì, certamente va fatta una premessa che la craniotomia decompressiva è in letteratura un trattamento chirurgico di non provata efficacia terapeutica, nel senso che stiamo parlando di un intervento chirurgico che si esegue in una situazione di estrema gravità dopo che tutte le terapie cliniche, mediche, farmacologiche sono state tentate e hanno fallito. Quindi la premessa è importante, nel senso che non stiamo parlando di un intervento chirurgico che ha rutinariamente dei risultati buoni, eccellenti, scarsi. È un intervento chirurgico di emergenza, un intervento chirurgico che si usa, utilizzando un termine più popolare, come ultima spiaggia. Perché la craniotomia decompressiva negli ultimi anni ha avuto un enorme aumento di impiego, non solo nello stroke, nell'infarto maligno della cerebrale come l'argomento di questo convegno, ma anche e soprattutto nella traumatologia cranica, anche nei pazienti con edema cerebrale post-infettivo. Quindi ha avuto un boom negli ultimi anni di elevato utilizzo. Nel caso dello stroke sicuramente c'è stata una maggiore implementazione negli ultimi anni perché ha avuto dei risultati positivi, soprattutto nei pazienti al di sotto dei 60 anni. È di recente pubblicazione delle raccomandazioni dell'American Stroke Association, American Heart Association, supportate dalla società di statunitense di neurochirurghi, dove questo intervento, sempre alla fine del fallimento dei trattamenti medici, è proponibile al di sotto i 60 anni perché c'è una riduzione della mortalità e anche un miglioramento sull'outcome clinico. Quindi i pazienti che hanno un miglioramento rimangono con un certo grado di disabilità, alcune più grave, alcune meno grave. Cosa diversa invece negli ultrasessantenni. Gli ultrasessantenni sicuramente questo studio ha visto una riduzione della mortalità ma i sopravvissuti hanno un enorme grado di disabilità, un severo grado di disabilità. Nessuno di questi ha una vita autonoma quindi questa è una cosa molto importante quando già in un momento tragico della vita di una famiglia dove si è subito un ictus tale da dover addirittura proporre un evento di decompressiva perché le cose non stanno andando bene, doverà anche far capire che questo intervento potrebbe salvare la vita ma sicuramente può produrre degli esiti invalidanti per il resto della vita. Il dottor Maurizio Resta ha invece relazionato sulle fistole durali, encefaliche e spinali. Dottor Resta lei dirige il dipartimento di diagnostica per immagini? Diagnostica per immagini che comprende però anche radioterapia, medicina nucleare e in questo ambito soprattutto la neuro radiologia diretta il cui primario è il dottor Massimo Donatelli. Ecco proprio con riferimento all'argomento che lei ha trattato, le fistole durali, encefaliche e spinali. Mi interessa cogliere il rapporto ovviamente tra i due settori, due ambiti, quello diciamo della neuroradiologia e quello della neurochirurgia che poi necessariamente devono dialogare ed implementarsi reciprocamente. Negli ultimi decenni la diagnostica per immagini che prima era soltanto dedicata alle diagnosi sia aperta anche ai trattamenti e soprattutto per via endovascolare ma non soltanto per via endovascolare e questo è particolarmente vero nelle neuroscienze per cui il radiologo, il neuroradiologo approccia certe patologie sfruttando le vie interne del corpo, le vie endovascolari curando patologie delle volte molto molto importanti per cui diventa quella che in altro termine si potrebbe anche definire neurochirurgia endovascolare. Ecco a beneficio degli amici da casa, molti dei quali ovviamente non hanno le specificità tecniche, lei ha parlato di fistole durali, encefaliche e spinali. Ecco parliamo di queste fistole cercando di comprenderne le varie tipologie. Fortunatamente parliamo di una patologia rara ma come si è detto in sala rara ma nelle quali si può anche inciampare e non vanno misconosciute. Sono delle anomalie vascolari che colpiscono prevalentemente le membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. Si possono curare per via endovascolare e questo è il motivo per cui siamo stati tirati in campo in questo ambito di terapia. Le nuove linee guida sulla trombolisi intravenosa e sui trattamenti meccanici è l'argomento rispetto al quale ha relazionato la dottoressa Manuela De Michele, è una neurologa che fa parte dell'UTN del Policlinico Umberto I di Roma. Dottoressa parliamo dei benefici che la trombolisi apporta. Sicuramente in una grande percentuale di pazienti che arriva fino al 50% il beneficio è sicuramente importante. Tuttavia si hanno una fascia di pazienti con occlusione intracranica, in particolare mi riferisco alle occlusioni di carotide e di cerebrale media in cui la combinazione della trombolisi endovenosa e del trattamento endovascolare è una ipotesi da prendere in considerazione perché si è visto che nei recenti trari alclinici pubblicati quest'anno questo tipo di pazienti trae nettamente maggiore beneficio. Tutto si basa evidentemente sulla tempestività dell'intervento, forse anni fa non era così. Sì esattamente, anni fa il paziente con ictus veniva ricoverato e si aveva un atteggiamento nichilistico nei suoi confronti. Adesso il tempo è fondamentale e diciamo ancora più importante che nell'infarto del mio cardio. Quindi la formula time is brain, cioè il tempo e il cervello è importantissima perché le cellule continuano a morire minuto dopo minuto e quindi dobbiamo fare tutto per ricanalizzare il vaso che si è chiuso. Di qui quindi la necessità di potenziare proprio le varie unit stroke? Assolutamente, sono sicuramente pochissime nel sud Italia in particolare, le stroke unit ma anche la neuroradiologia interventistica perché anche questo adesso è importante come deve esserci la stroke unit e il neuroradiologo interventista. Studi post marketing per ottimizzare la terapia della sclerosi multipla. Su questo argomento ha relazionato la professoressa Maria Troiano che è il direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico di Bari. La sclerosi multipla, un male che viene considerato invincibile. A che punto siamo? Beh, questa parola invincibile vorrei oggi evitarla, nel senso che... Smitizziamo questa espressione. Smitizziamo, certo. Diciamo che è una malattia che oggi si riesce a diagnosticare molto più precocemente di una volta e già questo è un punto importante. È una malattia per la quale oggi ci sono almeno 12 molecole che potremmo utilizzare per cercare di affrontare le varie fasi del corso della malattia. Diciamo che proprio perché è così eterogenea per il clinico può risultare difficile scegliere quale trattamento può essere quello più giusto per quel paziente che sta in quel momento visitando. Quello che ho mostrato nella mia presentazione oggi è che per poter rispondere a quesiti quali, quale trattamento è il migliore, quando e per quale tipo di paziente, ci possono aiutare moltissimo gli studi post-marketing. Che vuol dire post-marketing? Una volta che un farmaco viene introdotto nel mercato e quindi può essere utilizzato, comincia allora una storia di raccolta di dati su larghe popolazioni di pazienti che devono essere attentamente fatte nel corso degli anni di follow-up di questi pazienti in modo tale da poter ottenere delle informazioni sull'efficacia di quel farmaco che è stato immesso in commercio sia nel lungo termine e sia nel confronto tra un farmaco con l'altro. Perché solo in questo modo sarà possibile negli anni poter essere certi che per quella tipologia di paziente è meglio iniziare un trattamento piuttosto che un altro. Cellule staminali e malattie neurodegenerative. Siamo con il dottor Bresolin del Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico di Milano. L'efficacia delle cellule staminali in questo ambito? Parlare di efficacia direi studi che si stanno facendo per l'efficacia. Quindi la fase attuale è quella di risultati assolutamente positivi nell'ambito di modelli sperimentali ma nel limite dei modelli sperimentali è ben noto. Cioè un conto è parlare di modelli sperimentali e un conto è parlare di terapia efficace per quanto riguarda l'uomo. D'altra parte la prudenza che si deve usare in questo settore soprattutto prima di applicarsi all'essere umano, alla persona, credo che sia più che giustificato il lungo periodo di studio e di attenzione che si ha sull'effetto di queste cellule negli animali di esperimento. Lei è moderatamente ottimista potremmo dire? Sono assolutamente ottimista però l'ottimismo non vuol dire immediatezza. Oggi siamo abituati della notizia che fa scupe immediato. Cioè qui i tempi sono lunghi ma si arriverà sicuramente a dei risultati positivi. Dottor Domenico, in Tiso lei ha relazionato circa le disfagie neurogene. Ecco, rapidamente descriviamo le stesse e soprattutto quali tipi di rimedio apportare per quantomeno limitare il fenomeno patologico. Innanzitutto per disfagia noi intendiamo un'alterazione di un processo fisiologico estremamente importante per la vita dell'individuo che è la decoltizione. Una serie di disturbi neurologici possono comportare un disturbo disfagico tant'è vero che la maggior parte delle disfagie sono costituite da malattie neurologiche. Tra queste possiamo scrivere i disturbi del sistema nervoso centrale, basta ricordare la disfagia neurogena che si manifesta dopo l'ictus, la disfagia neurogena che si manifesta dopo la sclerosi multipla o con malattie particolari e degenerative come la sclerosi laterale amietrofica e come il Parkinson e i Parkinsonismi. Naturalmente un disturbo a volte sottostimato che noi dobbiamo considerare nei nostri pazienti sin dalla fase iniziale di malattia perché spesso esami clinici non sono sufficienti o valutazioni cliniche a determinare questo particolare disturbo. Nel momento in cui noi l'abbiamo appurato esistono una serie di strategie legate naturalmente anche agli esami a cui abbiamo sottoposto il paziente che possono contemplare una componente chirurgica e quella più o meno conservativa caratterizzata da una serie di interventi che vanno dall'elettrostimolazione a pratiche diverse di tipo strettamente riabilitativo. Dottore, le maggiori difficoltà sono con i solidi o con i liquidi? Nell'assunzione di cibi solidi o anche nel bere, nella deglutizione relativa a bevande, a liquidi in generale? Generalmente per questo tipo di disturbo, quando parliamo di disfagia neurogena che come dicevo costituisce la maggior parte, quasi il 70-80% di tutte le disfagie è generalmente un disturbo per i liquidi, quindi persone che hanno problematiche di natura neurologica e disordini neurologici generalmente tendono a lamentare inizialmente un disturbo per i liquidi. Quando c'è invece un disturbo caratterizzato da una difficoltà a ingoiare cibi solidi ci deve far pensare a un altro tipo di disfagia, nel senso che l'origine e la causa di questa malattia non è strettamente di tipo neurologico ma molto probabilmente gastroenterologico come patologie dell'esofago. Strategie terapeutiche nella malattia di Parkinson avanzate, questo il tema affrontato dal dottor Filippo Tamma direttore della unità operativa complessa di neurologia del MIULI di Acquaviva delle Fonti. Mi ha colpito in particolar modo una sua affermazione dicendo il Parkinson non è solo dopamina, vediamo cosa verrà oltre. Sappiamo già che il sistema dopaminergico è sicuramente quello maggiormente interessato ed è quello su cui si sono appuntate tutte le attenzioni delle aziende farmaceutiche per produrre farmaci dopaminergici che in effetti hanno una grossissima efficacia per parecchi anni nella terapia della malattia di Parkinson. Alla stessa maniera la chirurgia del Parkinson si rivolge sostanzialmente all'asse dopaminergico. Ma noi sappiamo che dopo parecchi anni, vogliamo cercare di curare i pazienti anche oltre i 15-20 anni, sappiamo che alla fine vengono fuori dei sintomi che sono dopamineresistenti, sono dovuti ad altri sistemi serotoninergici, gabaergici, glutamatergici che possono invece funzionare male e dare questi sintomi. Non sono controllati dalla dopamina. Questo è un aspetto sostanzialmente scoperto dal punto di vista farmacologico al momento. E cosa si intravede dal punto di vista farmacologico? Ci sono, come dire, buone speranze, orizzonti in vista? Diciamo che c'è sempre qualcosa nel cassetto. Attualmente c'è una molecola completamente italiana che aspettiamo per l'anno 21, la safinamide, ma ci sono anche tante altre sostanze dietro l'angolo, come si diceva una volta. In realtà per noi medici clinici che operiamo sul campo il farmaco diventa interessante quando lo abbiamo in mano. Sicuramente la ricerca si sta dando moltissimo da fare in questo senso, ma in questo momento strumenti veramente per i sistemi non dopaminergici non ce ne sono. In ambito di Parkinson parlare di chirurgia è un azzardo? Assolutamente no, oramai la terapia chirurgica della malattia di Parkinson risale al 1987, è stata realizzata e utilizzata e quindi sono quasi 30 anni che viene usata con enorme soddisfazione. La soddisfazione però è direttamente proporzionale alla attenzione nella selezione del paziente che è il candidato alla chirurgia. In genere io consiglio ai colleghi e ai pazienti di diffidare di quei colleghi che propongono interventi anche a moltissimi chilometri di distanza dalla Puglia e casomai dopo pochissimi giorni dal primo contatto. La selezione del paziente è lunga, deve essere attenta e alla stessa maniera il follow up deve essere rigoroso e quindi io invito i pazienti e i colleghi a considerare queste situazioni, anche la situazione geografica, oltre che le capacità tecniche, pensando di candidare un loro paziente per l'intervento. Neuro-Becet, ossia la malattia di Becet con interessamento neurologico, e il tema, l'argomento affrontato dal dottor Pietro Leccese che fa parte del Dipartimento regionale di reumatologia della Basilicata. Parliamo di questa patologia, come si manifesta, come fermarla per così dire. La malattia di Becet è una vasculite sistemica caratterizzata da tre sintomi particolari, afte orale, ulcere genitali e manifestazioni infiammatorie a carico dell'occhio. L'intervento neurologico rappresenta un aspetto di questa malattia. È una manifestazione, per fortuna, non molto comune, ma quando lo è, è importante intervenire depressivamente con una diagnosi e con una terapia giusta. È per questo che il Dipartimento regionale di reumatologia e il dottor Olivieri che lo dirige ha proprio impostato un lavoro di formazione e di divulgazione scientifica riguardo questa malattia. E una cosa importante è che l'anno prossimo Matero spiritirà il secondo congresso italiano mondiale sulla malattia di Becet. La seconda sessione del convegno contempla una serie di interventi, tutta una serie di interventi relativi a casi clinici. Partiamo dal primo, siamo infatti con il dottor Francesco Lincesso, neurologo presso la struttura ospedaria del Santissima Annunziata di Taranto, il quale ha relazionato sulla malattia di pompe gestione di un caso clinico. Di cosa si tratta? La malattia di pompe è una malattia rara, ha un rapporto di 1 a 40 mila sulla popolazione generale. È una malattia genetica ad ereditarietà autosomica recessiva. E quindi è caratterizzata da un deficit enzimatico che riguarda tutti i tessuti, quindi tutte le cellule dei tessuti dell'organismo, ma in modo particolare i muscoli, il muscolo cardiaco, i muscoli lisci e il fegato. Però investe, come dicevo prima, comunque tutti i tessuti. Le caratteristiche cliniche sono quelle di andare incontro a una compromissione nella forma infantile, a una compromissione cardiaca e muscolare che nell'arco di pochi mesi porta a morte. Come gestirlo? Si può gestire attualmente grazie al fatto che è stato sintetizzato questa enzima, che è carente in questi pazienti, somministrandolo per via endovenosa. Si sono ottenuti dei buoni risultati, sia come efficacia che come tollerabilità. Il gambling patologico come stato premorboso di demenza affronto temporale, l'argomento che è stato affrontato in uno dei casi clinici dalla dottoressa Angela Pompilio, neurologo presso la struttura ospedaliera del Santissima Annunziata di Taranto. Di cosa si tratta? Sì, è un disturbo del comportamento caratterizzato appunto da una compulsività nei confronti del gioco d'azzardo patologico e che nel nostro caso è stato il sintomo di esordio di una malattia molto più complessa che è la demenza affronto temporale che appunto inizia proprio con disturbi del comportamento. Quindi ci siamo chiesti se, come nel nostro caso, ci siamo chiesti se questo disturbo del comportamento possa essere l'esordio anche a distanza di molti anni, l'esordio di una patologia fortemente invalidante, impattante come sulla vita sociale e familiare del paziente e come appunto la demenza affronto temporale. È il momento del dottor Marco Rossi, dirigente medico di neurologia della Stroke One Unit presso il miulli di Acquaviva delle Fonti. Allora, lei si è occupato della occlusione della carotide e delle stenosi multiple intracraniche. Come prevenirle e come intervenire nel caso in cui l'intervento sia indispensabile? Allora, semplicemente le stenosi multiple intracraniche e le stenosi carotidee sono piuttosto frequenti. Ci sono degli studi che dicono anche il 56% dei pazienti che hanno un'ischemia cerebrale. L'esame per poterle mettere in evidenza è l'ecodoppler, l'ecodoppler dei vasi del collo e transcranico che diciamo molte neurologie sono in grado di poter fare, è un esame semplice, economico, anche ripetibile. Questo ci consente di capire il problema di fronte a cui ci troviamo e quindi impostare una terapia. Naturalmente è molto importante curare l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete, smettere di fumare che questi sono tutti i fattori di rischio principali per patologia cerebrale, per l'ictus ischemico. E quindi poi alla fine il neurologo valuta questi aspetti e di fronte anche all'integrazione con altri esami, per esempio l'attacco o la risonanza magnetica, inquadra il caso clinico del paziente e decide anche sulla terapia. In verità anche molto semplice, l'aspirina in varia combinazione con altri... Anti-aggreganti. Anti-aggreganti. In alcuni casi si procede con un trattamento endovascolare con l'angioplastica cerebrale, sebbene il trattamento di scelta al momento risulti essere quello dell'anti-aggregante. Terapia medica. È il momento del dottor Danilo Fogli, lui lavora presso l'unità operativa di neurologia della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La tematica affrontata nel suo intervento è la seguente, neuropatia assonale in pazienti con malattia di Parkinson complicata in trattamento con infusione intradigionale di levodopa, carbidopa, case report. Cosa vuol dire questa espressione? Innanzitutto dobbiamo dire che la malattia di Parkinson per le sue caratteristiche comporta nell'evoluzione del processo degenerativo che è tipico di questa malattia, comporta per il paziente con il passare degli anni un incremento notevole del carico di invalidità e in questo senso si sono andate sviluppando tutta una serie di strategie terapeutiche che però nel lungo termine non sono in grado, parliamo ovviamente di trattamenti tradizionali per quanto riguarda la malattia, quindi classica terapia orale per intenderci, non è in grado poi nel lungo termine di assicurare un controllo delle complicanze motorie che sono un elemento tipico dell'evoluzione della malattia. Quindi sono state sviluppate tutta una serie di tecniche terapeutiche avanzate e tra queste appunto l'infusione intradigionale di levodopa. Si tratta di una metodica più invasiva che comporta l'applicazione di un sondino che attraverso la parete addominale permette di raggiungere il digiuno dove viene dismessa questa particolare preparazione in gel del farmaco. Sicuramente è una terapia che permette di ridurre marcatamente l'invalidità migliorando le fasi di blocco e riducendo anche i movimenti involontari. Ovvio con l'ingresso in un uso molto più esteso di questa terapia si sono osservati in maniera del tutto anedottica, quindi estremamente poco frequenti questo tipo di complicanze degli eventi acuti con un interessamento del sistema nervoso beriferico. Questo probabilmente ha aperto anche un capitolo di studio che ha portato a documentare come in realtà anche nel paziente sottoposto a terapia orale con levodopa in realtà si possano manifestare degli interessamenti a carico del sistema nervoso beriferico. La prerogativa a volte di queste forme di neuropatia che interessano invece i pazienti con infusione digiunale è l'acutezza di insorgenza del sintomo e spesso l'estrema gravità per cui mi è sembrato utile portare a conoscenza non tanto l'evenienza di un processo a volte inevitabile quanto più che altro il concetto che questi pazienti debbono essere sottoposti a un monitoraggio clinico strumentale abbastanza stretto ed attento. Encefalite limbica con anticorpi anti-VGKC ne ha discusso, ne ha trattato l'argomento il dottor Augusto Rini presta il suo servizio presso l'ospedale Perrino di Brindisi come neurologo. Sì, abbiamo trattato il caso di questa persona di 63 anni dove alcuni disturbi comportamentali e emotivi associati a crisi epilettiche ci hanno fatto orientale in relazione alle indagini strumentali risonanza elettroencefogramma queste forme encefalite limbica che sono delle forme prevalentemente con meccanismo immunitario che interessano alcune strutture dell'encefalo, il sistema limbico coinvolto nell'emotività, nel funzionamento cognitivo e quindi molto importante nel funzionamento quotidiano della nostra vita sociale e relazionale. Un caso di epilessia farmaco resistente è il caso clinico affrontato dal dottor Giovanni Boero neurologo della struttura ospedaliera del Santissima Annunziata ed esperto appunto di casi di epilessia. Di cosa si tratta? Si tratta di un caso che dà lo spunto per riflettere sulle emissioni in commercio negli ultimi mesi anzi di tutta una serie di nuovi farmacenti epilettici che ci aiutano nella cura dell'epilessia. Il caso in sé per sé non è un caso particolarmente complicato da un punto di vista epilettico, però è un caso che si è risolto dopo l'introduzione di un farmaco che è stato commercializzato in Italia a giugno in una paziente che soffriva di epilessia da oltre 20 anni, quindi un farmaco che ha cambiato completamente la qualità della vita della paziente. Siamo fortunati perché è un periodo in cui le neuroscienze sono al centro dell'attenzione delle aziende farmaceutiche, ci stanno fornendo tutta una serie di nuovi strumenti che ci aiutano a far stare bene le persone. E diciamolo, senza essere presuntuosi, la struttura ospedaria del Santissima Annunziata, come diceva il direttore generale, almeno per quanto riguarda le neuroscienze, e non solo, ci mancherebbe, è davvero all'avanguardia? Beh sì, il reparto è un reparto estremamente specializzato. Stiamo cercando di potenziare l'attività ambulatoriale, che ora è sempre più importante, diventerà sempre più importante nella gestione delle malattie neurologiche, sono malattie croniche. E quindi nella maggior parte dei casi non hanno bisogno del ricovero per essere curate, ma hanno bisogno di una buona e continua attività ambulatoriale. Per fare ambulatorio ci vogliono i neurologi, ci siamo noi e stiamo cercando di darci da fare, grazie all'impegno soprattutto del nostro direttore, che ci supporta nelle nostre attività e nei nostri campi di interesse, perché ognuno di noi ha dei campi diversi di interesse. La neurologia è ampissima, è enorme, quindi non ci si può occupare bene di tutto. Già è difficile occuparsi bene di un solo... I tuttologi non esistono. Non esistono più. Dunque, come detto all'inizio della puntata, una trasmissione davvero diversa, ma ascoltando le varie relazioni, beh, la scelta è stata più che mai opportuna. E abbiamo rilevato come, grazie al cielo, la neurologia ionica, insieme alla neurochirurgia e alla neuroradiologia, può vantare davvero valori, livelli di eccellenza. Ci fa piacere, perché spesso il nostro territorio viene bistrattato, ma quando abbiamo effettivamente delle eccellenze, quando vogliamo mostrarvi qualcosa di estremamente positivo, noi lo facciamo con estremo piacere. E questa è una di queste occasioni. Che dire più, grazie a questo livello dei dipartimenti submenzionati, beh, possiamo scongiurare, almeno in questi settori, i viaggi della speranza. E ci fa piacere che Taranto, dal punto di vista delle neuroscienze, sia davvero un polo di attrazione. Bene, si conclude così la prima parte di Polifemo. Ora, l'intermezzo pubblicitario, è al rientro la seconda parte. Una parte davvero da non perdere. Non vi dico altro. Restate con noi, non cambiate canale.